Il Comune di Torni in parte ha approvato il bilancio di previsione e il DUP scongiurando l'esercizio provvisorio e di fatto mettendo in condizione l'ente ad essere pienamente operativo sin dai primi giorni del nuovo anno. Le tariffe e le imposte sono state confermate mantenendo i stessi livelli di servizi alla cittadinanza nonostante i rincari subiti per effetto della spinta inflattiva degli ultimi due anni. Il bilancio dell'ente dunque che vale circa 2,6 milioni per la parte corrente circa 31,5 milioni di euro in totale certifica una solidità economica e finanziaria del Comune che permette di programmare il futuro ed affrontare eventuali situazioni di criticità senza ricorrere ad aumenti della pressione tributaria a carico dei cittadini. Sono stati poi trovati spazi finanziari per la copertura dei costi della progettazione al fine di una nuova adozione o revisione del piano regolatore generale che darà la possibilità di ripensare e programmare il futuro del territorio. Le principali novità fanno sapere al Comune sui lavori riguardano la costruzione di un nuovo loculario da 120 posti nel cimitero comunale del valore di 254 mila euro, l'affidamento dei lavori per l'autoparco comunale di fianco al campo sportivo in zona Sorvillo, la manutenzione straordinaria di un muro sulla SP31 Forulenze con fondi della provincia dell'Aquila che vede il Comune di Torno in parte come soggetto attuatore per effetto di una convenzione stipulata nei mesi scorsi. Nei prossimi mesi, infine, saranno affidati i lavori per la messa in sicurezza del costone di montagna che sovrasta la via che conduce alla Valle di Ruella per circa 930 mila euro e per cui il Comune ha già ricevuto un'anticipazione di 200 mila euro dal Ministero degli Interni. Si attiveranno altri tre cantieri poi rispettivamente al Palazzetto dello Sport di Palombaia per l'efficientamento energetico, al campo sportivo di San Nicola e allo stadio comunale con adeguamento delle norme CONI per circa 350 mila euro. I finanziamenti del fondo complementare al PNRR, inerenti poi alla riqualificazione urbana, il miglioramento delle strutture sportive, la ristrutturazione dei edifici, lavori straordinari sulla viabilità comunale e la valorizzazione della senteristica montana, che valgono oltre 3,5 milioni di euro, sono cantieri per cui sono state rispettate tutte le milestone fissate dall'OSRC e STM. Per il nuovo asilo nido nella zoglia di Palombaia, invece, sono stati affidati i lavori il mese scorso ed è imminente l'avvio del cantiere nel pieno rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR, sono in corso infine gli adeguamenti in materia di digitalizzazione grazie proprio ai finanziamenti PNRR per oltre 200 mila euro.